Ciao a tutti! oggi facciamo un video dove spiego io no ve lo spiego io dove diciamo si e si rilancia due dati e se si dice due non amo prendere questo e che cos'è una slime challenge? si sono felicissima iniziamo ma voi chi siete? Anastasia Anastasia la cioccolata che sta ripenendo è domina ma non sta male ciao allora siete pronte per questa slime challenge con Siri? si ci sono anche dei fogli attaccati eh si ci sono anche i numerini attaccati sui prodotti sugli articoli io non voglio non voglio che uscire questo perché è mio perché Anastasia fa così animatelo poco si ecco tutto nero il tuo slime allora chi inizia? io facciamo carta forbice? si sasso carta forbice allora aspetta uno due tre quattro cinque sei sette uno due tre quattro cinque sei sette quindi quindi iniziamo allora hey Siri lancia i tabi hai fatto due e tre con questo tiro ho detto due e tre cinque uno due tre quattro cinque wow la verso subito una due e cinque una 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 ok dai l'aiuti tu e Siri aspetta e Siri lancia i dadi ecco hai fatto quattro e cinque stavolta nove no allora questa è una ma Anessa dovresti saperlo quanto fa quattro più cinque quattro tre la schiuma da parte nove eh novella cattiva attenta che ti cadono i denti ma cos'è palma vai Ani ehi Siri lancia i dadi hai fatto sei e quattro sei più quattro aspetta sette sette otto nove dieci quindi ritiene è di dieci wow Ani la colla rosa che bella no 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 basta poi ce ne saranno anche di copie no guardate come bella che bella che bella amore sei contenta della colla si mi piace me lancia i dadi ecco hai fatto tre cinque stavolta quindi quattro cinque sei sette otto c'è fortuna mi fa amore no come l'hanno? echi ecco 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 Eh no è già uscito Anastasia prova a dirlo tu Ehi Siri lancia i dadi Dai Ehi Siri lancia i dadi Un attimo solo 6 e 2 8 è già uscito Ancora lì Ehi Siri lancia i dadi Ottimo 1 e 1 2 amore 2 Bravissima Il mio colore preferito Bravo amore bello Scusa guarda quanto è messa Ha ragione Che bel colore Ehi Siri Lancia i dadi Hai fatto 4 e 5 9 Ehi Siri lancia i dadi Ok 3 e 5 8 è già uscito Ehi Siri Lancia i dadi Hai fatto 3 e 4 2 e 3 Ehi Siri lancia i due dadi Ehi Siri lancia i due dadi Hai fatto 6 e 6 12 hai visto che fortuna Ehi Siri Ma è la gattona colla E' la gattona colla E' la gattona colla E' la qui E' la qui E' la qui No purazzi Dà un pochino No Dai favore Dai favore Il favore me la metti un pochino Ok Il favore un pochino No Ehi Siri lancia i due dadi Ottimo 2 e 3 5 E' già uscito Ehi Siri lancia i due dadi Tiro Ok 5 e 6 11 11 E va bene Va dai E con l'amore Anche quella E con la vinilica No guarda Ti conviene aprirlo da qua Ehi Siri Lancia i dadi Ottimo 4 e 2 6 I glitter neri Sì Cos'è questo sguardo Cos'è stato quel sobbarcio all'indietro Ehi Siri Dio numero fino a 3 e 4 Un numero casuale compreso tra 0 e 34 fa 9 Dio numero da 4 Ehi Siri Dio numero da 2 e 4 Un numero casuale compreso tra 2 e 4 fa 4 Ok dai Ce l'hai fatto lo stesso 4 Il sapone Oh guarda Ok Ha ragione Bene Adesso tu da 1 a 3 Ehi Google Ehi Siri Un po' di confio Di numero da Da 1 a 3 Tiro Ok 3 Ok Ecco Solita fortunata Amore Amore Adesso 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 Wow Anastasia tocca a te Ti è rimasta soltanto la tempera con l'oro Dopo se non esce il mio metto Wow 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 Ti avete capito qualcosa Ah Birk Carbonato Marcoviti Hai trovato un sasso Un sasso di carbonato Carbonato Leopetarazzo Carbonato O bicarbonato Bicarbonato Non sto scendo Dai Ne sto scendo Quante Non sto scendo Non ci credo Io ne la credo Una pappetta Dovete mettere l'attivatore Dai Attivatore Dai Mettete l'attivatore Su Ecco Ma io levo mescolate Mescola Mescola La tua salsa al pomodoro E qui abbiamo una barbabietola invece Ok mettine un po' anche a Dani Sì Fatti Vai Ancora un po' Ancora un po' Bastos No Proviamo Aspetta Nostasia No Sto scendo Mescola bene La foca E Bravi Evviva le foche Evviva le foche Evviva con le mani foche Ciao Va bene dai Gli slime non sono usciti Né ad Anastasia Né anche a Vanessa Quindi Mi raccomando ragazzi Iscrivetevi al canale Aggiungete la campanella E lasciate un like A questo video Ciao 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 Ciao